Scaricate OneFootball, la migliore applicazione per seguire il mondo del calcio a 360 gradi. News, video, contenuti social 24 ore su 24, fantastica interfaccia, semplicissima da utilizzare. Ragazzi non ce n'è, è la migliore e la potete scaricare gratuitamente dal link che trovate qua sotto in descrizione. Affrettatevi e fate un favore a me e ai ragazzi di OneFootball che se lo meritano. Detto ciò vi lascio immediatamente al video post partita di Italia, Olanda. Ciao ragazzi, ciao a tutti, un saluto a Calcio Toro, bentornati in questo nuovo video YouTube. Italia-Olanda finisce con il risultato di 1-1, al vantaggio iniziale si grato da Lorenzo Pellegrini su palla perfetta di Nicolo Barella. Risponde Van de Beek dopo un tiro ad avviato di Depay, a porta completamente spalancata, nulla può Gigio Donnarumma sul pareggio dell'olandese. Una partita scoppiettante, sicuramente gradevole da vedere. Una partita a fase alterne dove Italia e Olanda hanno proposto un buon calcio, fatto di possesso, fatto di tocchi rapidi, decisioni affrettate. Ed è stata una partita sinceramente godibile. L'Italia probabilmente dal punto di vista delle occasioni ha creato anche qualcosina in più. Spesso Immobile ha avuto l'occasione di portare gli azzurri in vantaggio nuovamente. Purtroppo non è riuscito a capitalizzare bene le occasioni, ma adesso ci arriviamo con un'analisi maggiormente dettagliata magari su tutti i calciatori. Inizio col dire che Barella è veramente maturato molto come giocatore dalla sua esperienza al Cagliari. Mi sembra sicuramente irruinto come al solito, però più preciso, dispendioso, abbina anche una buona tecnica, tra virgolette. Ovviamente non è Celsa, ma devo dire, diversi palloni recuperati, passaggi praticamente impeccabili. Un giocatore completo come centrocampista, devo dire che per questa Italia è una risorsa veramente molto importante. Chiede l'uso probabilmente a Giorginio che in fase di impostazione, come la partita contro la Polonia, come avevo detto nel video, pecca un po', pecca un po', solitamente no. Ma tanti errori di impostazione, tanti errori con i passaggi, si poteva fare sicuramente di meglio. La vera nota negativa probabilmente è Ciruz, Ciruz immobile. Francamente mi è piaciuto per come è rimasto in campo, ottimi movimenti da attaccare alla profondità, inserimenti sulla linea del fuorigioco classici, tipici di Ciro. Poi purtroppo davanti al portiere ha sbagliato troppi gol, però nel complesso, come movimenti, secondo me si è giocata una buona prestazione. Questo rivaluta la gara di Belotti, non lo so ragazzi. Certo che a questa Italia manca sicuramente un centravanti fuori classe, ma fuori classe proprio. Secondo me né Belotti né Immobile né anche Caputo sono a livello di alcuni centravanti che c'erano nel passato. Più completi e sicuramente più forti e conosciuti anche a livello internazionale. Immobile è un giocatore che fallisce nelle grandi occasioni, il Galo non ce n'è anche mai arrivato alle grandi occasioni, quindi insomma siamo messi proprio da Dio. Però ecco, per chi criticava aspramente Belotti poi sarà rimasto deluso dalla prestazione del loro grandissimo fenomeno. Ecco, questa è la mia opinione. Però devo dire che nel complesso, come movimenti, ripeto, mi è piaciuto più di Belotti, che è stato anche poco sardito contro la Polonia e questo va detto. Chiesa ha diversi errori. In fase di recupero a volte si è rivelato prezioso, altre volte invece errori in fase di marcatura quando è dovuto scendere ad aiutare. Ha subito anche un piccolissimo infortunio fisico, poi è ritornato subito in campo dopo aver recuperato. Francamente sì, se questo è il giocatore che ha acquistato la Juve qualche dubbio mi viene su, anche se qualitativamente il ragazzo. C'è diversi colpi di tacco, diverse giocate di livello, qualche volta scatta oltre la linea del fuorigioco, tenta dribbling, doppi passi, che purtroppo non portano a nulla. Mi ricorda molto la linea sotto questo punto di vista. E poi entra Ken, che è tutt'altro giocatore, almeno in nazionale. Per quanto riguarda la nazionale è tutt'altro giocatore. Qualcosa di meraviglioso da esterno. Ken sembra aver trovato il suo ruolo ideale, molto meglio rispetto al ruolo di centravanti, secondo me, nonostante l'ottimo periodo alla Juve. Con l'Everton è stato schierato sempre in avanti. Abbiamo visto i risultati comunque abbastanza scadenti con la maglia dei Toffees. Qua è nazionale giocalargo, con Mancini, sulle fasce. E devo dire che mi piace. Ci sta, ci sta. E poi chi altro abbiamo da commentare? Ottimo inserimento di Pellegrini per il gol del vantaggio iniziale. La difesa per il resto abbastanza attenta. D'Ambrosio, secondo me, ha qualche colpa sul gol di Van de Beek. Poteva accorciare su Blind. Poteva impedirgli di crossare. Invece si è schiacciato e sulle fasce l'Olanda comunque ha avuto determinati spazi. E rischiato più volte di farci male. Anche in contropiede, sfruttando un po' di errori in avanti dell'Italia, poteva fare male. Ma alla fine, nulla di che. Buoni interventi di Bonucci. Qualche colpo di testa sbagliato da parte di De Jong. È il risultato che rimane fisso sull'1-1. Tra parentesi, Frankie De Jong, non Lucca De Jong. Ottima partita, secondo me. Alla fine è stata una bella lotta a centrocampo. Sicuramente due centrocampi di qualità e quantità. Sia quello dell'Italia che quello dell'Olanda. Quelle dovute proporzioni. Niente, di conseguenza l'Italia prende un punto. Attualmente non ho visto com'è la classifica sulla Nations League. Commento questa partita giusto perché è triste. Senza Toro è qualcosa per intrattenerci. Dobbiamo trovarlo, ma di base me ne frega meno di zero. Ve lo dico abbastanza francamente. Fatemi sapere voi che cosa ne pensate. Invece iscrivetevi al canale, mettete un piaccio, condividete il video. Seguitemi su Instagram e ci vediamo al prossimo video. Sempre Forza Toro. Ciao ragazzi.